Oh, che cos'è quello? Mmm, sembra una piantina Che bella piantina Oh, che cos'è? Fermi, fermi, uccidete la piantina! Fermi, fermi! Menomale! Oh, no! Una extra macchina! Oh, no! Oh, attenzione alla piantina! Come posso fare per proteggerti? Peppa, cosa ti è successo oggi? Come mai sei così triste? Ho trovato questa piantina! Ma tutte le macchine vogliono buttarla sotto! Povero fiorellino! Dobbiamo salvarlo! Peppa, io so come aiutarti! Guarda, con questi segnali stradali, le macchine non andranno più sopra la tua piantina! Peppa, non gridare! Guarda che cosa succede adesso! Guarda che cosa fa con la mia piantina! Oh, no! Eh, Sidley! Guarda che cosa fa con la mia piantina! Peppa, non ti preoccupare! Ci vuole solo una recinzione! Ciao, Zebra! Liedo la mia piantina! Così nessun animale potrà mangiare la tua piantina! Ecco, così nessuno ti mangerà! E adesso, Peppa, innaffiamo la tua piantina! Innaffiare le pianti le fa crescere grandi e forti! Questa terra è nostra! Ma che sono questi? Sidney! Ma, Peppa, questi sono semplicemente delle erbacce! Ho vinto contro le erbacce! Bravissimo, Peppa! Anche io ho vinto contro le erbacce! Sidney, sta succedendo qualcosa con la piantina! Non capisco! Wow! Che bel fiorellino che sei diventato! È vero, Peppa! È proprio un fiorellino bellissimo! E a te? Piace crescere le piante e i fiori? Ciao! Io sono Sidney e oggi vado a fare una passeggiata con Peppa! Che cosa mi posso mettere ai piedi? Oh! Le scarpe gialle! Anche Peppa ha delle scarpe gialle come queste! Peppa! Sei pronta? Ti sto aspettando! Eh sì, Sidney! Arrivo! Sto cercando le mie scarpe gialle ma non le riesco a trovare! Peppa! Peppa, dai, ti aiuto io a cercare le tue scarpe gialle! Che disordine! Peppa, nel tuo armadio sono mischiati i vestiti e i giocattoli! È normale che non riesci a trovare le tue scarpe! È molto comodo quando prendi le cose e le metti tutte insieme in un solo posto! È comodo però poi le cose non le trovi! Bisogna mettere i vestiti con i vestiti e i giocattoli con i giocattoli! Tiriamo tutto fuori dall'armadio e poi mettiamo tutto in ordine! Uh, quanti cose ho! Eh sì! E adesso mi dirai quali cose sono giocattoli? Quali cose sono vestiti? Che cos'è questo? È un accappatoio! Va nei vestiti! Esatto! E questo che cos'è? È un vestito! Lo mettiamo nei vestiti! Giusto! E questo che cos'è? Questo è uno squish! È un giocattolo! Giocattolo! Lo mettiamo nella cesta dei giocattoli! Oh! Che cosa ci fa nel mio armadio il dinosanno di George? Ma se non lo sai tu! Mettiamolo nella cesta con i giocattoli! E questa che cos'è? È una tutina! Giusto! 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 La mettiamo nell'armadio! La mia bambola! Vanno i giocattoli! E questo che cos'è? Questa è una selva! Va nell'armadio con i vestiti! Ecco qua! Peppa! Che cosa ci fa una mela nel tuo armadio? Il cibo si conserva in cucina! Davvero? E allora anche la banana bisogna portarla in cucina! Eh beh sì! Mi sembra proprio di sì Peppa! E questo Peppa? Che cos'è? Sono pantaloni! Vanno nell'armadio! E ho provato anche la mia scarpetta! Urrà! Perfetto! Una scarpetta c'è già! Dobbiamo trovare l'altra! L'orsacchiotto va con i giocattoli! Questo va nell'armadio con i vestiti! Oh! L'altra scarpa! Sì sì! Eccole qui! E lo sai dove si mettono le scarpe? Si mettono nel cassetto con le altre scarpe! Che cosa ci fa questa qui nel cassetto con le scarpe? È un aromatizzatore alla vaniglia per i vestiti! Dove le metto? Ovviamente lo mettiamo nel cassetto dell'armadio! E che cosa ci fa qui la tartaruga ninja? Dobbiamo metterla nei giocattoli! Siamo state proprio brave Peppa! Abbiamo messo i vestiti con i vestiti i giocattoli con i giocattoli e abbiamo perfino trovato del cibo! Prendiamo le scarpe per la passeggiata Chiudiamo! Mi metto le scarpe e usciamo! Ecco fatto! Sono pronta per la passeggiata con Sidney! Hai visto Peppa! Adesso sai che se metti in ordine la prossima volta ci metti meno tempo a prepararti per la passeggiata! E tu? Tieni in ordine nel tuo armadio o conservi le mele e le banane insieme alle scarpe? Scrivicelo nei commenti! Ciao! Ciao!